La presa d'atto della Corte dei Conti innesca ufficialmente la fase 2 dell'amministrazione comunale. La magistratura contabile approva di fatto il piano di risanamento di piazza del popolo per fronteggiare i 13,2 milioni di debiti dichiarati a novembre 2013. Stamattina in conferenza stampa l'assessore al bilancio Angelina Spagnolo ha riportato con puntiglio tutti i numeri del comune evidenziando i risultati già conseguiti nell'aggressione dei debiti più antichi e di maggiore entità. Le transazioni già realizzate sui casi Sandulli, Galassobis, Mazzone e Meridia infatti hanno già prodotto una prima riduzione della massa debitoria anche se i debiti fuori bilancio approvati a settembre hanno già compensato la riduzione e le previsioni sulle entrate del 2014, il primo dei tre entro i quali il comune conta di azzerare il suo passivo anche grazie a un significativo aumento della tassazione, al momento stanno trovando riscontro. L'ente ha già incassato 6 dei 10 milioni di gettito stimati per la prima delle due rate dell'Imu, 2,5 sui 4,6 dell'Irpef, anche qui resta da incassare la metà del conguaglio di fine anno e 2,9 sui 5,5 delle due soluzioni previste sulla Tasi. I conti insomma tornano, anche se resta assolutamente fondamentale, incassare quanto preventivato. Anche per questo l'amministrazione ha già attivato gli strumenti paralleli di contrasto all'evasione e conta di mettere finalmente mano alle vendite patrimoniali. In definitiva, dopo due successive comunicazioni della Corte che lasciavano prefigurare scenari particolarmente duri per la città senza escludere l'aumento massimo delle imposte con la dichiarazione di predissesto, Piazza del Popolo sembra essere partito con il piede giusto. La sfida resta difficile ma la luce in fondo al tunnel ora è almeno visibile. grazie a tutti. grazie a tutti.